e dringhi rinoso zioso torraso in terra e costa smeralda po un'altra bassira de dringhi rinchi rinchi rinco storta da entregara a sa chitarra che sa chitarra in sardegna chi sonara può accompagnare i balli su chi sonara può accompagnare i scantosi o esioso sempre in compagnia de simone grusso saluri simone saluri a tutti e con su maestro ignazio cadeto esioso in assousa vita de su maestro e in santo su cominzao su dringhi rinchi 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 rin sono su de sardegna la lua canto sudoria e trumento Gesù è il fondo del luogo Le lai le lai la, le lai la Le lai le la, le lai la Le lai le la, le lai la Ed ringhili Simone Ho indiri se sono un buccato, se sono un domo De Ignazzo Caredo che è stesso maestro di chitarra Deo suaviri, poi il mio paguorasa Ho già entrato in suoi piacini di questo strumento che ho indirido conoscere come un suono caratteristico dei suoni di Sardegna Però come ti narrao su vince questa trasmissione nostra Uno mondo dei suoni su e suoni su di uno mondo Scevo vince che questa storia cosa sua Bessere dell'acca nella sua isola Saluti a tutti, sono Antipanghizai Giustamente come ti narrao Oggi voglio dare un pochetto di questa chitarra che ho conosciuto tutti E' uno dei due strumenti di cordofono che funziona grazie a questa trasmissione dei suoni Uno è il suo canotto, appunto, che ho una chitarra L'altro è il suo serragio, che è il mio paguorasa E questo è il suo strumento antico ma anche io ho indiri i punti di paguorosa che tu conosci Il mio paguorasa è il mio paguorasa che tu conosci E il mio paguorasa che tu conosciuti pure Io ho imparato e non ho scelto in questa musica tradizionale Dunque non ho dubbi di usare il mio paguorasa Ed ho scelto, voglio dire, questa chitarra è uno strumento internazionale Ho dubbi di usare la casta di musica popolare, moderna, leggera C'è la musica In Sardegna c'è il mio paguorasa particolare di questa chitarra Sarda, alcun pangere a balli, alcun pangere a canti Però in regione di storia di Sardegna C'è il mio paguorasa che tu conosciuto una fotografia, un documento, una carta Che tu conosciuto la testimonianza di rompere questa chitarra in Sardegna E non sai come si può sapere a cercare questo cammino? Beh, sicuro che io conosciuto che questo strumento è un collegamento, una connessione Dessa Sardegna con la Spagna Con altre cose a me che teniamo in questa musica altra E questa chitarra è uno dei gusti connessioni Dunque è stato arrivato a questa Spagna E teniamo su uno documento ufficiale Che prova di questa esistenza in questo momento specifico Questo è un ordine vicerreggio, ma in Castello che ha proibito da su 1598 Che ha proibito da suonare questa chitarra a postisi del ripico di questa ultima campagna E' un po' una questione di ordine pubblico Dunque se la chitarra può suonare, può fare in festa E dunque se ci c'è idea di non fare il putrello Un'entrata traballosa in questa tradizione Sarda di questo strumento Sì, sì, adesso non è la chitarra pure, ma l'altro strumento è un po' E' un po' che quando c'è stato dato sui ufficiali E certo su questo strumento, in questo periodo E' un po' che gli ordini si diventano Che tutto è un po' di ordine pubblico Precettando questo strumento E poi ti avviene l'occasione di fare troppo vesta E' un po' di ordine pubblico Poi ti ho menzionato, ora, altre storie, altri strumenti Ma non è che ci c'è caso di avere ricchezza E' un po' di armonica E' un po' di questo argomento Di avere un po' di cosa è meglio di noi E' un po' di documenti interessanti pure In senso, come ti asciugio può sapere questa chitarra in Sardegna? Dunque, questa chitarra non è che non è sempre stato a questa chitarra Questa è questa chitarra che noi conosciamo Come questa chitarra folk o chitarrone sardo E' un po' di forma per un anno E' un po' di una maniera molto particolare Ma non è un po' di una cosa molto tecnica E' un po' di profano Se non conoscono questo strumento Può fuori E' un po' di ordine E' un po' di ordine La prima differenza E' un po' di una maniera E' un po' di una maniera Di questo strumento Ma tra questa, questa chitarra Che lo conoscesse Di musica leggera E' un po' di moda E' questo po' di soldi Non può imparare a alcuna cosa Quando uno strumento è per un anno Quindi invece Che ci sono anche Il progettivo Per il signore Beh, sicuramente questa potenza è importante, non si può negare. Torrazzo, per quanto riguarda il suo impero di questo strumento, posso dire sicuramente che in Sardegna stanno usando questa metà con notte per l'accompagnamento delle ghiere di chitarra, quindi le ghiere cantate di poesia, ma non stanno usando le scelte di qui. Invece questa chitarra viene usata anche per il ballo come un strumento solista. Quali vogliono usare un sonnatore storico, che vengono a scuola per chi pratica questo strumento in questo ballo e in questo canto? Beh, sicuramente un po' quanto riguarda il ballo, il ballo sardo su questa chitarra non potrebbe scarecci in anni serra. Per quanto riguarda invece l'accompagnamento delle ghiere di chitarra, non vogliono fare un'autore da Calincuno, i nomi di adesso sono stati molto, 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 molto di questa storia, e molto, molto, molto professionisti, che sono stati traballati purtroppo, ma sono stati molto bravati, ma sono stati molto bravati. Sono stati molto bravati. Ho vinto a tre centi di tempo, e ho trovato un pochino per farvi gustarti. E infatti, se ho in dire, come ti senti il chitarrista, come ti senti questa chitarra, ma questa musica azzarda? No, no, questa chitarra, come un strumento, sicuramente penso che mi fa bene. In me, chi si deve considerare altro strumento, questa chitarra sicuramente mi fa bene. come ti senti prima, sei imparato pure in altre situazioni musicali, dunque questo strumento sei sempre pronto, sei sempre più bello, e quando uno ha di bene a conca, e si chiude a fare il suo genere tradizionale, non so che dopo a prendere, sei pronta, cambia da girare a paguare le corde, e si chiude a studiare questa musica. Mentre altri strumenti, invece, uno è da depo, per prendere un altro strumento, mancare, è difficile da mettere, o cosa fai, insomma. Questo è uno strumento che fai durante la sarda, o dove prendere il suo lavoro? Questo è una bella domanda. Questo è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Poi, se non c'è che fai durante la chitarra, in Sardegna, non c'è che due punti, questo è un po' ma che. Però, chi è in più, chi ci fosse in più, ma mancava varie scelte di chi è in più, ci vuole a primavera. Però, in scelta, si chiude a costruire, si chiude a costruire, si chiude a costruire, i foresti, in Italia, in Italia e in Sicilia, ma non innazio. Però c'è anche gente di artesani, gente di Brascia, che si riempi in mano, si può arrangare, accontare, e tornare a fare, e fino a quando si meravigliano la chitarra si vengono in pratica, si affinavano fino a quando si arrangavano e tornare in misura, come si riempi in mano, e fino a quando si assumono il nostro innazio ma anche se lo mostrano che è arrivato ai strumenti e non si riempi in questo modo. Chi si è d'accordo, non si riempi in questo modo, e si riempi a ragionare con questo. Bene, inizio, questo suonarendi con Simone, che in Sardinia è grande, facendo la chitarra, non si riempi con la chitarra, non si riempi con la chitarra, ma si riempi con la chitarra, non si riempi con la chitarra, non si riempi con la chitarra, non si riempi con la chitarra, ma si riempi con la chitarra. E noi, abbiamo avuto una chitarra di strumenti che si riempi con le mani sulle ruote. le cose che ho incontrato a Dio, mi giravo in C, mi veniva a Conca, ma sempre ho fatto la musica a Sardinia, sempre ho fatto la musica, anche le due chitarre, rock, blues, eccetera. Poi mi ero interessante mille, quando ero conservatore, ho fatto un esame di civiltà, musicali afroamericani, e quindi mi veniva a incontrare con questo strumento, come si riempi con la chitarra, in inglese, se si riempi con la chitarra, se non si riempi con le scatole di cigarros, se non ero in America, non avevano niente di niente per comprare strumenti, quindi si riempi con gli argomenti. Quindi, mi ero interessato, magari ci trovavo in internet, e poi mi ero lavorato, già, qualche cosa mi riempi con gli strumenti, se non ci vogliono, tanto ci passi a questo tempo. Io sono stressato, quando andavo a prendere la musica a Sardinia, ora ho detto Rai. Torrauso a Sardinia. Torrauso è, mancai circa da conoscere e comprendere le differenze tra i suoni e una chitarra che poi, se hai su un altro strumento, può essere la musica leggera può essere la musica internazionale, ma tu, tu non sei la musica a Sarda, e questa musica a Sarda mi canta e mi balla. E come si riempi con la chitarra a Sarda, dato che ci siamo e abbiamo differenze, si ritieni a volte, con una musica tra i suoni e i suoni, la stagia per i suoni, la mancanza… addirittura questo che perché si narra l'italiano diapason o scala e lo sapete del accordo che vibra tra i suoni è solo il suggerimento di noi e poi, in base a un conto matematico è indiogato il tasto, non è che i punti guardano avanti, essendo un diapasano per un anno, votano il tasto per un anno. Quindi il tasto per un anno. Conforma a sisterra? A sisterra di noi, dei suoi punti, arrivare a noi. Conoscete il canturato su due punti in sala? Sì, due cose in noi, per un studente non poteva andare, però sa la misura che vota. E' questa maniera poeta di pirareci ai cimani? Aveva una necessità di dissono? Una necessità di dissono, delle ragioni. In modo di conto, cosa succede? Quando in Sardegna si è cominciata a sviluppare questa gara a chitarra, la gara del lavoro di Esa, la chitarra, e ci fu questa necessità che questo strumento, cioè si intende, si è atteso, non c'è un impianto di amplificazione, quindi spalco su, quando è quella maniera, due sclava da posto a San Grugio, la gente... San Grugio, la parola, il piano. Sì, bastava che uno vuole pagare il garage, non sarebbe struppiato tutto. E poi con i cantanti, chi cantante, i cantatori, i sardeggi un po' fotti, e mancava di ammantare il suo strumento. Quindi c'è questa necessità, la chitarra prima, la vittoria delle terzine, le cose in questa misura. la necessità di dover intenderlo su suon atteso è pareggiare con questa voce del suo cantatore. Poi quando è arrivata questa visarmonica, questo, sai che la chitarra è arrivata questa visarmonica, pure se rende il bruso importante, pure questa cosa. E questo succede, chiaro. Essendo di rimanere in questa casa, logicamente su suon, l'amplifica del cese di bruso, potete fare un po' di attesa, comprendi? Ehm... E quindi la necessità di dover intenderlo in attesa, quindi tutto succede. Però essendo più lunga questa cosa, non è che vogliamo di corda per spingere, cioè la corda per grucia, infatti per grucia, se la corda per la grucia, se la chitarra della chitarra. Tu vuoi acconciare a misura? A misura. E questa cordatura è meglio più bassa, ad esempio in questa zona. E noi devo che apposturano un po' di chitarra, come una chitarra normale? E' un po' di che non si accoste. E' un po' di che non si accoste. Questo è un accordo del re. Re. In questa forma, questo è un do in sardo, in tre. Chitarra standard. Però sulla zona non è il re. Chi do è noi, se prende un re, si accorda una quarta, poi usa un basso, una sutta, e quindi corrisponde a un la. E' un po', questa macchinetta può accortare e non ci essere un la. La zona è un lato, poi la metà è diventata in Sb, dipende dalla necessità di adattare al suo cantante. Questo è la differenza. Poi ci si è d'attesa. E questa potenza di questa gaccia brumana. Poi quando arrivavano gli impianti di amplificazione, se si chiede usare questo, ormai questa tradizione della musica, il suo zombo, il suo canto usato, non è che potessi usare una gitarra normale. Sì, si è da prestare, ora fai una gitarra normale, però non è così. Questa è una gitarra sarda, lui lo intende, questa è una gitarra sarda e basta, non è il rock n'roll o il tuo sogno. È così. È caratteristico. E in San Duzo è subito una quarta pro sua basso. Una quarta eccedente, più solta, dipende dalla necessità. E finito da Sarrella? Prima ancora, nel 1915 nasce questa gara gitarra, la prima gara gitarra. D'accordante in sol, pure. Ancora vorreggia, questa necessità di sapere, di cantare, di cantare in mezzo. Cioè, vado a vorreggia e sfrutto per spargare sapere, pure. E poi finito da Sarrellata, entro il suono su delle corde, da cambierà quando andate a suonare i balli, o a canto su sardosi? Sì, la nostra gitarra sarda usa la gitarra, oppure può accompagnare la gitarra, se c'è un'idea di accompagnare il ballo, pure usare. E usa Savinna, non è che si può accompagnare. Giuseppe, se no, rende l'idea. Però c'è una maniera, adesso non hai il ballo su, la chitarra sova, pure, non hai la chitarra solista. Quando ci punti, il launedas, fai su ballo con tu su, la chitarra vuoi fare su ballo con tu su, mentre la visarbonica, su organetto diatonico, eccetera. E torna il launedas, come te, su maestro, di scala, su maestro di armonia e tutti gli altri strumenti che andano a fare su la launedas? la chitarra vuoi fare su la launedas? La chitarra vuoi fare su la launedas? La chitarra solista? La chitarra solista? Con la chitarra solista? Con la chitarra solista? No, non fai. Puoi rendere pure qualcosa di scuola. che si è capito, non c'è la possibilità di fare su. Frorigis? Frorigis, come ti vuoi fare la launedas? Non c'è la chitarra, 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 gli accordi esce la chitarra, non so peggio lì, e in questa libertà tu devi fare su la launedas, poi fai su la tappetta, e poi ci sono altri titoli che fa su ballo, le note. Un maestro in corso deve essere un maestro quasi mio, dopo che ho notato, dopo che ho studiato ho approvato la laurea in etnomusicologia, sono un anno in serra in Casteldaio. Questo è un intenso ballo che io suonavo, è spettacolare. Come ti ha ricevuto su Vila un'aradio di imparare un giro dei chitarristi? Poi non c'è la tecnica della zona di chitarra sarda, tenere una scuola, passare da maestro a maestro, come ti vuole sospire o gustare? In certe zone magari Cancun è ubicato, tipo la Uned, esatto, che è l'incomanista, ci vuole adesso. Però mi pare che si impara, il suo modo di imparare è proprio a furare, non c'è nessuno. In diri però, pure io ho avuto la storia, tu anche se io ho lavorato, se io ho avuto i dottori in etnomusicologia. E ti ha ricevuto i souvenir di questa chitarra e finiti adesso imparare questa chitarra in Sardegna, come ti depilisci? Allora, è bello, se io ho detto, chiunque che riuscita da te non è un maestro, secondo me, è meglio. A fare come ti ha fatto io, c'è più buono, anni e anni, magari quando un maestro impara prima. Tocca da cattare il suo maestro giusto, e che direi su cui ho avuto i tuoi. Potete mai ricevere questo maestro da l'intervento della scuola, parto da l'incio e davvero... Però magari a me da allievo ci sta succedendo, non mi interessa cosa stavate, mi andando. Dopo se cattare il suo maestro, cattare il suo maestro, chi ti vuole già su cui ho avuto i tuoi. E ci ha dato. È sempre una relata intradiscente e maestro in queste questioni. Ma poi da un po' a vincere se si imparano giù di questa tradizione musicalizzata, a un udretto, una rosaica accademica. Quindi tu non ti vincere l'evoluzione della sua zona. Sì, secondo me già. Devo ora studiare la pratica, povera Jeremy. Ma poi 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 dico, chi capita vai a questa scuola pura? Non è che se io vincere, io mi viaggio di trasmitire pure. Devo mi gherpo, mi miroggio la dita. Deve spareci tutto. No, dopo aver guardato. Quando aver guardato su chi ha fatto un anno e zero. Sandro, fuori da sulle zone della gitarra, delle tecniche, che vanno bene in mano e mi sa anche di suo maestro, sapremmo cosa da fare e posare la musica azzarda è questa di trovare l'accordatura di Dejri, di Zerberi, che dà bisogno. Abbiamo questa accordatura che dovrebbe essere la un'altra, le tre canne. Questo accordo pronto, comprendi? E' un nuovo motivo. Partendo di questa accordatura standard? No, per esempio, mi serve questo. sulla, così, capisci? E' questa è pronta? Non ci serve. comprendi? e questa è la stessa accordatura prodotto? si prodotto i ballos e questa è poi fai adottato il ballo poi volessi in lavo volessi in do, l'importante è appoggiare sul rapporto e chi si ha ragione di cantare a saponai che si accompagna uno canta curva? questa no, non va bene, torna a questa accordatura normale poi davanti a doppio do, le gambe in c'è ancora un'altra modifica, però fai adottato come se la chitarra è normale la tecnica di esecuzione ha più che vuoi fare questo spizzo con il diruso? in italiano ovviamente è pizzicato, è spizzo, è un po' più guidato, per questo mi lascia fare in Uriburdo è venuto a scuola, se chi mi impera la sabina e chi mi suona con il diruso, ha venuto risultati differenti? allora ho fatto in questa maniera e poi ho avuto amarello ai diti, perché non ho tanti, si faccio armonia, tanti, no, questo mi ha commentato che devo fare l'imitazione del suo Dumbudon questo è sempre il mio Dumbudon, mi ha il suo tempo e io ho commentato che devo fare l'imitazione del suo Dumbudon se la un'altra è dovete fare l'imitazione bene, mi pare il mio pericoloso passare a una dimostrazione in questo modo si intende è un ballo, si intende un campitanese un ballo campitanese parte del Monteo, ci aggiungi un bago del Monteo organo, un bago del Viorassio, un mesturo però questo è il suo campitanese a passatresi a passatresi, chiesti una maniera da Edo Baddai e in Sanduso 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Grazie 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 a tutti.